Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, anticipazioni e interviste. Come ogni fine settimana che si rispetti l'appuntamento su canale 5 è solo uno. Ed è quello che i telespettatori conoscono bene, con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito. Alla conduzione Silvia Toffanin, che con la sua eleganza e il suo garpo sa come mettere a proprio agio gli ospiti. Volti noti del mondo dello spettacolo, che anche in questo weekend si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all'amore. Ecco tutte le anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023. A Verissimo tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica. Pronti a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di sabato Leo Gassman. Figlio di Alessandro Gassman, reduce dal successo a Sanremo con il brano Terzo Cuore. Il giovane cantante, con la sua spontaneità e la sua umiltà, ha conquistato tutti. E ancora, da Silvia Toffanin anche una delle coppie più amate della TV, quella formata da Clizia Incurvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del grande fratello Viper e ora sono genitori del piccolo Gabriele. Clizia, tra l'altro, parlerà della sorella Micola, concorrente delle reality che ha conosciuto lì Edoardo Tavassi, questa storia d'amore sarà bella come la loro. A Verissimo. Poi, sarà la volta di M.R. Ryan, il cantante arrivato al terzo posto a Sanremo con la sua Super Eroi. Che è diventata un po' un manifesto. Di forza e coraggio. Non solo sabato. Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico anche di domenica. Subito dopo Amici, talent show di successo di Canale 5. E tra gli ospiti ci sarà l'attrice. Conduttrice e comica Katia Follesa, che recentemente abbiamo visto sul palco al fianco dell'amica Michelle Unziker nello show Michelle Impossibile. E che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all'amore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.